Un'ultima domanda a vostro onore. Signora North, giusto per essere chiari, li ha visti uscire dall'auto? No. L'auto si è mai fermata? No. Eppure ha identificato i miei clienti come i presunti assassini. Sono stati loro. Obiezione, vostro onore. Conclusione giuridica. Accolta. Signora North, siamo interessati ai fatti, non alle opinioni. Ha fatto una domanda e io ho risposto. Va bene, lei ha identificato i miei clienti, giusto? Sì, certo, sono stati loro. Ok, ok. E attualmente lei assume qualche tipo di antipsicotico? Cosa? L'orazepam, litio, risperidone, c'è qualcos'altro che dovremmo sapere? Aspetti, aspetti. Ha identificato non uno, ma tre uomini in un veicolo in movimento, di notte, da una distanza di 10 metri, dopo un bese in coma, un esaurimento nervoso e sotto l'effetto di farmaci antidepressivi e antipsicotici. È possibile? Che il suo ricordo non sia quello che credeva che fosse? No!